Leonardo Silva Revisore Quanti di voi scrivono con la mano sinistra? Poteste alzare la mano, per favore? Potete usare indifferentemente la destra o la sinistra. Bravi. Così ad occhio e croce, secondo me, sarete circa un centinaio. Mi dicono che in teatro ci sono circa 800 persone, per cui siete attorno al 10-15%. E questa, in realtà, è la percentuale che si osserva in qualsiasi sottinsieme dell'umanità. Ovunque, a qualsiasi latitudine, dove ci sono esseri umani, c'è una maggioranza che predilige usare la mano destra e una minoranza che preferisce usare la mano sinistra. Se ci pensate a una cosa strana, no? Perché non è metà e metà? Perché non 50 e 50? O non perché l'unanimità, per esempio? Perché non 100% che preferiscono la mano destra e 100% che preferiscono la mano sinistra? Io oggi provo a illustrarvi un'idea che cerca di spiegare perché c'è questa condizione di maggioranza e minoranza. Allora, tutti sanno che la faccenda della preferenza nell'uso della mano ha a che fare con il cervello, con il fatto che la parte destra controlla l'arto di sinistra e viceversa, e inoltre con il fatto che le due metà del sistema nervoso fanno cose diverse. Per esempio, nella nostra specie, l'emisfero sinistro si occupa del linguaggio, mentre l'emisfero destro è affaccendato con altre cose tipo riconoscere le facce, orientarsi nello spazio e così via. Quello che forse non sapete è che questi fenomeni sono generali, sono diffusi anche in altri animali. Per esempio, se prendete gli scimpanzè e gli date un tubetto con dentro del miele, loro di solito lo tengono con la sinistra, come faremmo noi, e con la destra manipolano per tirare fuori il miele. Oppure, un po' più lontani da noi, questi rospi li abbiamo studiati anni fa e gli abbiamo messo un pezzettino di nastro adesivo sul muso e abbiamo visto che per toglierselo con la zampina usano preferenzialmente la zampa destra. O ancora, alcune asimmetrie sono addirittura più forti di quelle che osserviamo per l'uso della mano destra nella nostra specie. I pappagalli, di solito, usano la zampa posteriore alla parte sinistra per tenere gli oggetti e poi manipolano, per così dire, utilizzando il becco. E lo fanno in percentuali che sono attorno al 90%, quindi ancora più alte di quelle della nostra preferenza per l'uso della mano destra. Ci sono animali che non hanno degli arti in senso proprio, o che non li usano, ma comunque, siccome il fenomeno è relativo alla specializzazione diversa dalla parte destra e sinistra, noi possiamo osservare comunque delle differenze. Per esempio, gli animali che hanno gli occhi posizionati lateralmente sul capo, molti uccelli, pesci, rettili, hanno un'organizzazione anatomica tale per cui, quella che vedete qua, quello che viene visto dall'occhio destro viene elaborato dall'emisfero sinistro e viceversa. Allora, se prendete, per esempio, un polletto, come questo, o un piccione, e lo lasciate libero di beccare una teoria di granellini, potete scoprire, dopo un po', adesso il filmato verrà accelerato, perché non abbiamo tanto tempo, che la distribuzione delle beccate non è simmetrica. In realtà, il pulcino becca molto di più sul lato sinistro che non sul lato destro. Perché? Perché l'emisfero destro, come dire, controlla questi comportamenti visuospaziali e dirige l'attenzione nella parte sinistra del mondo. È interessante questo fenomeno perché in realtà lo potete osservare anche nella nostra specie, in una forma diversa, per esempio in giochetti come questi. Qual è che vi sembra la faccina triste e quale la faccina allegra? La maggior parte delle persone, i destrimani perlomeno, dicono che la faccina di sinistra sembra allegra e quella di destra sembra triste. Questo succede perché noi dirigiamo l'attenzione sulla parte sinistra del viso, e allora potete vedere che sulla parte sinistra del viso la bocca va all'insù, mentre invece sulla parte destra va all'ingiù. E questo, per così dire, colora l'impressione dell'intera faccetta. È una fortuna che dirigiamo l'attenzione sulla parte sinistra perché anche le emozioni sul nostro volto vengono espresse più intensamente sulla parte sinistra del volto. Non so se avete mai notato, ma gran parte dei ritratti in ogni epoca e con diversi stili in modelli tendono a mostrare il lato sinistro del viso. Questo è il famoso Antonello da Messina e il sorriso dell'ignoto marinaio, ma vale anche per Mona Lisa. Le asimmetrie che vi sto descrivendo non riguardano solo la vista, valgono per tutti gli organi di senso. Per esempio, noi abbiamo studiato nei cani l'uso della nariccia destra e sinistra. Vedete che loro alternano l'uso delle due narici, fanno una specie di scanning e non lo fanno a caso in realtà, cioè con stimoli nuovi tendono a usare più la narice di destra che è connessa direttamente, l'olfatto è un senso antico con l'emisfero destro. E poi ancora, in certi casi, le differenze di lato si possono manifestare anche per organi che non sono doppi, come gli occhi, le orecchie e così via, ma che sono singoli, mediali. Per esempio, la coda. Allora, i cani quando scodinzolano muovono la coda sia a destra che a sinistra, ovviamente, però siccome il movimento a destra o a sinistra è controllato dal lato opposto del sistema nervoso, succede che, se voi misurate l'entità dello scodinzolamento quando per esempio un cagnolino guarda il padrone e quindi è contento, vedete che muove la coda un po' di più a destra e tocca il fianco destro molto di più di quanto non tocchi quello sinistro. Adesso lo stesso cane guarda un altro cane in atteggiamento, invece, aggressivo. Vedete che lo scodinzolio, e questo non sorprende, diminuisce, ma tende anche a spostarsi sul lato sinistro. Questo succede perché, mentre le emozioni positive sono controllate dall'emisfero sinistro, che induce una risposta di approccio, di avvicinamento, quelle negative, che vi fanno tornare indietro, per così dire, sono controllate dall'emisfero destro. Voi direte, beh, bel lavoro che fate voi scienziati di studiare i movimenti della coda del cane. Devo dire che qui ho perso un'occasione per diventare ricco perché una dita americana, senza dirci niente, ha sfruttato le nostre osservazioni e ha inventato un piccolo marchigegno che, posto sulla coda dei cani, consente di misurare se scodinzolano un po' di più a destra o a sinistra e quindi i proprietari possono stabilire se il loro cane è felice oppure no. Non garantisco che funzioni. Allora, succedono un sacco di cose interessanti e strane, no, per quello che riguarda la destra e la sinistra, nel mondo naturale degli animali. Quindi quando un granocchio vede qualcosa di buono è più facile che lui lo piglia con un colpo di lingua se lo vede con l'occhio destro che non con l'occhio sinistro. è una differenza relativa, vedate, non assoluta, ma c'è. Oppure, se invece che mangiare si tratta di aggredire un altro con specifico, per esempio questi sono lucertole americane, quando due maschi si incontrano è più facile che si attaccano se si vedono con l'occhio sinistro che non con l'occhio destro. E anche la livrea cambia di colore che è associata al comportamento aggressivo più facilmente se si vedono con l'occhio sinistro. È un fenomeno generale, vale per tutti i vertebrati. Quindi adesso, quando andate in giro sul marciapiede con un accompagnatore o un'accompagnatrice, considerate con attenzione se la volete tenere alla vostra destra o alla vostra sinistra a seconda di quello che vi aspettate da lui o da lei. Però, noterete, c'è un problema qui. Il problema è che questo è un modo apparentemente molto strano di costruire un cervello, giusto? Perché nel mondo gli oggetti, le prede, i predatori, gli altri animali, hanno in linea di principio la stessa probabilità di apparire a destra o a sinistra. Per cui, in questioni che sono veramente di vita o di morte, come per esempio rispondere a un predatore, una situazione in cui il nostro ranocchio è più veloce, un po' più veloce a rispondere se il predatore arriva a sinistra che non a destra, sembra un modo strano per l'evoluzione, per la selezione naturale, di costruire un cervello. Quindi ci devono essere state ragioni, importanti ragioni per costruire i cervelli asimmetrici. Quali? Alcune le conosciamo, ce n'è più d'una. Per esempio, se allocchiamo, mettiamo le funzioni da una parte, risparmiamo tessuto nervoso. Quindi metto il linguaggio nell'emisfero sinistro, ho un po' di spazio nel destro per metterci delle altre cose. Come sempre in biologia, il vantaggio è una questione relativa, perché succede che se mi capita di avere una lesione, l'altro emisfero non è in grado di sostenere quella funzione. Ed è quello che capita se per disgrazia avete una lesione nell'emisfero sinistro, diventate afasici. Oppure considerate il caso degli animali di cui vi parlavo prima, che hanno gli occhi posizionati lateralmente sul capo, a destra e a sinistra. Allora per loro si pone il problema di come controllare l'azione. Considerate ancora il nostro ranocchio, di qua vede una mosca e di qua un'altra mosca, e si trova, come il famoso asino di Buridano, incapace di decidere. In queste situazioni è assolutamente essenziale che una metà del cervello assuma il controllo e dica ok, si va a destra, si mangia la mosca di destra. E poi infine c'è una terza ragione importante, che è quella che ha a che fare con la possibilità di compiere due compiti simultaneamente. Visto che parliamo di volo, le galline, che come sapete sono il mio animale favorito, e il vertice della creazione dal punto di vista cerebrale, sono capaci di fare una cosa di questo tipo, e cioè di guardare sul terreno mentre pascolano con l'occhio destro, in cerca di qualche verme succulento, e nello stesso tempo con l'occhio sinistro di guardare in alto, emisfero destro, e tenere d'occhio l'ambiente che non compaia un qualche predatore alato. E questa cosa la possono fare simultaneamente, in maniera molto efficiente, proprio perché hanno un cervello asimmetrico. Bene, questo ci dice perché, ci spiega perché ci sono cervelli asimmetrici, che fanno a destra e a sinistra cose diverse, ma non ci dà ancora la risposta al problema con cui siamo partiti all'inizio. E cioè, perché una maggioranza e una minoranza? Se ci pensate bene, la cosa è molto strana, perché sembrerebbe più logico avere una condizione in cui le asimmetrie sono distribuite metà e metà. Considerate questo caso. C'è un predatore nel mondo, e il nostro predatore ha a che fare con delle prede che sono asimmetriche metà e metà. Metà sono destrimani e metà sono mancine, diciamo così. Allora, che cosa succede? Succede che il nostro predatore incontra una preda e questa scappa a destra. Ne incontra un'altra e questa scappa a sinistra e un'altra ancora e questa scapperà, non lo so, per esempio ancora a destra e così via. Ciascuna singola preda ha in realtà la sua direzione preferita, però non c'è modo per il predatore di saperlo, a meno che non ci siano incontri ripetuti, ma questo è molto improbabile nel mare, come potete immaginare. Quindi questa è una situazione che va piuttosto bene. Considerate invece l'altra alternativa, quella in cui le asimmetrie sono allineate, c'è una maggioranza. Quindi, per esempio, arriva il nostro pesciolino e questo pesciolino scappa a sinistra, poi un altro che scappa a sinistra, ancora uno che scappa a sinistra e un altro ancora che scappa a sinistra. E beh, il predatore impara, sfrutta questa regolarità e la può usare a suo proprio vantaggio. Quindi allora uno dice, ma, caspiterina, come mai si sono evolute asimmetrie che sono simili in direzione nella maggior parte degli individui? Non era meglio allora fare metà e metà? Beh, la nostra idea, molto semplicemente, è questa. Vale questo ragionamento nell'ipotesi che i nostri organismi siano, come dire, totalmente solitari. Cioè, posso essere libero di decidere se essere destrimane o mancino senza curarmi degli altri se non ho alcuna interazione con gli altri. Ma nel momento in cui c'è un qualche tipo di interazione con altri individui asimmetrici, devo tener conto della loro direzione di asimmetria. Questo, nei termini della teoria dei giochi, che è una branca della matematica, si dice in questa maniera qua. Quel che è meglio fare per un individuo dipende da quello che fa la maggior parte degli individui del gruppo a cui appartieni. Allora, apparentemente, dovreste aspettarvi da questo ragionamento che la soluzione dovrebbe, per l'appunto, essere quella dell'allineamento. I pesciolini stanno nei banchi, nel mondo, e se tu ti allontani da solo dal banco, sei pesciolino morto. In realtà, no. Noi abbiamo provato a fare un po' di conti. Io, con la mia collega Leslie Rogers e Stefano Ghirlanda, abbiamo fatto un po' di matematica, e quel che abbiamo visto, sorprendentemente, è che le soluzioni stabili, cioè quelle che possono reggere dal punto di vista dell'evoluzione, non sono né 50%, e l'avevamo già capito, ma neanche 100%. Le soluzioni che reggono sono quelle in cui c'è una maggioranza e una minoranza. 90-10, 80-20, 60-40. Come mai? Beh, lo potete capire, anche senza matematica, con un semplice esempio. Considerate gli sport di tipo interattivo, come per esempio la scherma o il pugilato, no? Allora, nella scherma o nel pugilato che cos'è che succede? Succede che voi incontrate molti pugili che sono destrimani, e la prima volta che vi capita di incontrare un pugile mancino vi trovate in difficoltà. Perché? Perché i colpi arrivano dalla parte che non vi aspettate. Ricordate cosa dice Rocky Balboa nel primo film, parlando di se stesso, no? Era un pugile mancino, nessuno vuole combattere con me. Ma perché nessuno vuole combattere con i mancini? Perché i mancini sono pochi. Perché se i mancini fossero in numero uguale ai destrimani, allora non avrebbero alcun vantaggio. Questo in biologia si chiama selezione dipendente dalla frequenza. Vuol dire che il vantaggio ce l'hai finché questi individui rimangono pochi all'interno della popolazione. E questa è la ragione per cui c'è il mancinismo e per cui si mantiene nelle popolazioni. Le nostre nonne erano molto preoccupate quando nasceva un bambino mancino e cercavano di correggerlo. e dicevano non devi usare la mano del diavolo. In realtà, come avrete capito, il mancinismo è una condizione biologica del tutto naturale. Non ha niente a che fare con il diavolo se non per il fatto che il diavolo sta nei dettagli. E il dettaglio, in questo caso, è relativo al fatto che i mancini hanno il vantaggio, possono essere originali, per così dire, perché stanno in un gruppo di conformisti che è più grande, che è maggioritario. Se, tra qualche migliaia d'anni, uno scienziato verrà qui ad un TED del futuro e chiederà al suo pubblico quanti tra di voi, come ho fatto io, usano la mano sinistra per scrivere, io sono pronto a scommettere che ne salterà fuori una percentuale identica a quella che abbiamo trovato oggi, cioè con una maggioranza di destrimani e una minoranza di mancini che sono mantenuti a quel livello finché sono pochi. Grazie.